10 distretti per fare da collante tra i medici di base e l'ospedale. Nasceranno così le aggregazioni funzionali territoriali, che dovranno garantire i servizi essenziali di assistenza per fette di popolazione sotto i 30.000 abitanti o centri con alta densità abitativa. Lo schema è stato approvato dalla Giunta regionale. Nelle Cese nasceranno 10 distretti, quello di Lecce, Di Campi, Nardò, Martano, Galatina, Maglie, Poggiardo, Gallipoli, Casarano e Gagliano. Nei comuni dei distretti ci saranno aggregazioni funzionali territoriali che complessivamente saranno 29, sparsi in modo che siano coperte tutte le zone. 4 i distretti nel Brindisino, con 14 aggregazioni divise per i raggruppamenti dei paesi e 6 per Taranto, con 19 aggregazioni. I compiti essenziali delle AFT sono assicurare l'erogazione a tutti i cittadini che adesso afferiscono dei livelli essenziali di uniformi di assistenza, nonché l'assistenza ai turisti, realizzare nel territorio la continuità dell'assistenza estesa nell'intero arco della giornata e per sette giorni alla settimana per garantire un'effettiva presa in carico dell'utente, garantire poi la continuità dell'assistenza anche mediante l'utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata, del fascicolo sanitario elettronico e il continuo aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata. I medici del ruolo unico di assistenza primaria così si chiamano operano per garantire un'effettiva presa in carico degli assistiti a partire in particolare dai pazienti cronici in buona sostanza una struttura ponte che possa intercettare le persone che non riescono a rivolgersi al proprio medico di base per orari e giorni di non reperibilità e che così non affollino gli ospedali l'obiettivo per la regione che ha raggiunto l'intesa con un accordo con i sindacati e di migliorare l'assistenza e potenziare la presenza sui territori.